ciao a tutti allora faccio l'ultimo video di questo aggiornamento domenicale con voi non so se guarderete questi video la domenica sera o forse li guarderete durante la settimana e non lo so comunque ci sentiamo volevo fare una riflessione perché mi avete fatto tante domande di aggiornamento sui bagni derivativi e in generale sul metodo france guienne e allora volevo aggiornarvi sulla mia esperienza solo la mia esperienza sul metodo france guienne perché perché non esistono esperti del metodo france guienne e non esistono esperti di bagni derivativi né su youtube me compresa né su facebook me compresa nel senso che france guienne è stata l'ideatrice vediamo se riesco a spiegarmi perché sono tanti mesi voi avete visto che io carico meno video perché purtroppo meno tempo per impegni lavorativi e familiari però leggo e studio tantissimo sempre sul mondo del naturale sia online che soprattutto libri che compro in libreria o più tecnici che compro online allora france guienne è l'ideatrice di un metodo da lei chiamato metodo france guienne che altro non è che e non lo dico in senso negativo perché nessuno di noi nasce imparato con illuminazioni tutto quello che noi sappiamo viene dalle generazioni precedenti o da qualcuno che ci ha insegnato quindi france guienne il metodo france guienne france guienne scoppiazza varie tecniche inventate da altri mescolandole insieme a suo modo e quindi inventando il suo metodo personale france guienne fatto di tanti pezzi presi da altri i bagni derivativi sono stati inventati da louis kuhn che non ha inventato niente perché ha visto che i bagni derivativi li facevano già i mammiferi e gli animali e le generazioni passate l'argilla come cataplasmi metodi curativi esiste da millenni e anche gli animali si rotolano nel fango per curarsi e diciamo per anche curare la pelle la temperatura corporea eccetera eccetera e quindi anche l'argilla voi trovate libri e libri e vari autori approfondimenti sia in libreria che online non è certo un metodo inventato da france guienne la colazione mi amo fruit si è stata inventata da lei ma sulla base di altre colazioni simili come per esempio la crema budwig inventata dalla farmacista budwig su indicazioni e in collaborazione con la dottoressa kusmine una dottoressa nata inizio secolo svizzera che studiava il rapporto già tra alimentazione e malattie di conseguenza france guienne non ha inventato proprio nulla anche il fatto di prendere sole senza protezione solare per approvvigionarsi di vitamina d i nuovi trend le nuove mode se voi acquistate all'altra medicina rizza psicosomatica e seguite un po il movimento del benessere naturale che c'è in questi ultimi anni vedete che anche i medici medicina convenzionale medicina anti aging medici nutrigenomiche eccetera eccetera tutti parlano di carenza di vitamina d ormai anche per i popoli attorno al mediterraneo perché non stiamo comunque abbastanza al sole stiamo in uffici in luoghi chiusi e quindi il vantaggio di esporsi una mezz'oretta al giorno al sole dunque il metodo france guienne non esiste cioè esiste perché lei ha raccolto queste perle di saggezza in un libro rivisitandole a suo modo e creando il metodo france guienne quindi tu segui il metodo france guienne ma certo io penso che il metodo france guienne sia un metodo sensato cerco di stare al sole il più possibile quando ho l'opportunità faccio i cataplasmi di argilla o faccio dei semplici bagni di argilla per motivi di tempo mi viene più pratico in questo momento della vita fare i bagni di argilla ma comunque la uso c'è sempre in casa mia ed è molto efficace come lei dice sui suoi libri per le bruciature e pratico i bagni derivativi con costanza non più giornalmente da quando ho avuto il bimbo perché a volte proprio la vita non mi non mi porta a insomma poterlo fare ad avere l'organizzazione le energie sufficienti ma comunque li faccio costantemente ormai da anni e ne trago sempre benefici però attenzione il metodo france guienne è semplice secondo me è efficace però io ormai per avere la pagina facebook del mio blog www.olisticario.com che vi invito a consultare ho dovuto creare un profilo che non è disponibile che non è reperibile io non voglio avere amici su facebook e voglio starci il meno possibile perché voi sapete per me non è un luogo istruttivo è un luogo dove ogni tanto c'è qualche spunto interessante sì ma solo spunto poi è da lasciare nel giro di 10 minuti un quarto d'ora è un luogo virtuale pieno di circoli viziosi invidie cattiverie guru discepoli e dinamiche sadomasochiste dove io non voglio stare se non per pochi minuti al giorno però per curiosità e informazione dato che un blog su benessere naturale e ho questo canale da tanto tempo sono andata a vedere i video scusatemi sono andata a vedere i gruppi facebook e mi sono iscritta li ho frequentati per un po per proprio vedere di non dirvi delle cretinate ma di farvi dei commenti un po approfonditi che parlano del metodo fransky è ma veramente io sto cercando di essere diplomatica e mettere dei filtri ma dicono delle cazzate cazzate gigantesche ma allora anzitutto non so come si possa essere esperti di bagni dei derivativi ma ragazze e ragazzi ma veramente pensate che ci vuole un esperto per prendere un cuscinetto freddo e metterselo sul sedere sul perineo ma che esperienza ci vuole non ci vuole nessuna esperienza non c'è da parlare non c'è da farsi pippe mentali e chi ha letto e riletto i libri di fransky è perché credete che lei non abbia un gruppo facebook e che anche io che sono stata la prima a parlarne su facebook ma perché credete che io non abbia fondato subito un gruppo facebook ma certo visto che c'era la possibilità di migliaia e migliaia di iscritti che c'era una possibilità commerciale di vendere la propria immagine o addirittura di vendere posh se uno ne avesse avuto diciamo l'ardire l'organizzazione ma perché non l'ha fatto lei così come non l'ho fatto io perché secondo me se si ha un minimo di onestà intellettuale si dice e si scrive esattamente quello che ha scritto franskyen cioè bagni derivativi vanno praticati per un po di mesi o di anni senza farsi pippe mentali e vedendo semplicemente giorno per giorno con calma i risultati che si hanno ma non sono miracolosi anche se il libro espone tanti risultati significativi che effettivamente fanno pensare a un miglioramento dello stato di salute generale che anche io ho riscontrato ma voglio dire la cosa bella dei bagni derivativi non ci sono controindicazioni è un po di freddo messo sul perineo nessuno ha mai fatto video i libri dove si dice quando hai la febbre metti un po di freddo qui sulla fronte che effetti ne avrai cioè non bisogna spaccare il capello in quattro ancora prima di aver iniziato oppure dopo una settimana che si stanno facendo i bagni derivativi dire a mi è tornato l'herpes mi è tornato l'acne sarà dovuto ai bagni derivativi ma magari in quella settimana il tuo capo ti ha insultato oppure il tuo marito hai litigato con tuo marito e ti è venuto fuori cioè ci vuole una consapevolezza di sé una calma una tranquillità per affrontare i metodi olistici di benessere naturali e non bisogna aspettarsi di scrivi di iscriversi a un gruppo e di avere qualcuno che giorno per giorno ti aiuta ti sostiene ti supporta e risponde alle domande sulla tua salute perché solo tu puoi sapere qual è il tuo stato di salute e sei tu il più grande esperto sul tuo fisico e sul tuo benessere di mente cuore corpo spirito e benessere sessuale sei solo tu che lo sai e quindi quando france guienne scrive sui suoi libri che non bisogna farsi troppe domande sui bagni derivativi ma farli vedere i risultati e capire qual è il momento migliore della giornata per te per farli se è meglio farli con acqua oppure con la poche ma ragazzi io su questi gruppi ho letto di gente che va a letto con delle bottigliette da mezzo litro di acqua gelata in mezzo alle gambe ma siamo fuori di meloni completamente cioè ognuno per carità faccia quello che vuole ma veramente io utilizzo questi social network ho conosciuto anche delle persone fantastiche tramite questi social come youtube e facebook e quindi sono contenta che esistano ma vanno usati nel modo giusto cioè le cose dopo un po che stanno su questi social e dopo un po che le persone si scoppiazzano e si ascoltano a vicenda diventano dei mostri a sei teste e non capisco perché non fatevi troppe domande praticateli per dei mesi o per degli anni prima di parlare prima di fare delle domande sarà che io vengo come formazione dalle arti marziali e nelle arti marziali non si parla si scende in campo sul tatami si indossa la propria divisa si pratica e dopo mesi o anni che si pratica finalmente si possono fare delle domande al maestro ma non prima perché prima le domande non hanno senso perché tu non sai di che cosa stai parlando e questo secondo me vale tantissimo sia per i bagni derivativi che per tante altre metodologie di benessere naturale sulle quali voi trovate tantissimi spunti su facebook spunti nel senso a non sapevo che esisteva questa cosa questa vitamina su facebook ho saputo che esiste ma poi veramente documentatevi a 360 gradi comprate dei libri chiedete al vostro medico di fiducia anche al vostro naturopata chiedete a più al farmacista più esperti collezionate una serie di pareri anche contrastanti e poi eventualmente provate sotto sempre il controllo di qualcuno che comunque ha una laurea in medicina che ha passato degli esami di anatomia perché non dimenticatevi che certe professionalità che servono e non dico che siano meno efficaci di altre però ci sono delle professionalità in questo paese informatevi sui percorsi di formazione sugli esami triennali dove basta pagare il corso e poi arriva il diploma di counselor di naturopata di e non c'è nessun esame come anatomia o biochimica medicina in cui vi possono bocciare magari ridate due o tre volte ma sono professioni in cui si accede abbastanza facilmente e che quindi poi dipende dal professionista dalla sua onesta intellettuale dalla sua coscienza e dipende interamente dalle sue scelte personali poi quali altri approfondimenti fa e quindi poi come vi segue io vedo tantissimi tantissimi dilettanti e tantissimi tantissimi guru con la battuta pronta e con personalità e simpatia fare guru su facebook o su youtube senza assolutamente aver praticato i bagni derivativi perché io li ho praticati dunque sono una semplice praticante non sono un esperto però capisco quando chi mi sta parlando non li ha praticati perché dice delle cazzate perché se uno li fa per qualche mese o addirittura per anni io li ho fatti anche durante la gravidanza durante l'allattamento sa benissimo diciamo le qualità e sa anche ridimensionare gli effetti che danno e ma insomma andare a letto con una bottiglietta di acqua gelata ma è una tortura cinese ma non esiste ma poi non si fanno durante il sonno si fanno durante il giorno nelle ore libere e devono essere un piacere non devono essere un obbligo e non sono la panacea di tutti i mali possono esserlo possono esserlo se è il momento giusto per voi se magari in abbinamento ad altre cose comunque sperimentatelo possono essere in abbinamento a un certo tipo di alimentazione come no ma dipende sempre come siete fatti voi ognuno di noi è fatto in modo assolutamente unico quindi io sì penso che il metodo france guienne sia un metodo e un libro veramente saggio e che dà dei buoni consigli per certi versi forse fra qualche anno sarà superato adesso vedo che si parla sempre di più anche di integratori c'è tantissimo la moda nel movimento del benessere olistico e naturale di questi vegani vegani crudisti poi fruttariani eccetera eccetera vedremo insomma dove dove andrà questo movimento ecologico del benessere naturale ci sono sempre tante novità è utile sempre prendere degli spunti io ho comprato degli ebook da ragazze macrobiotiche che hanno dei blog che mi piacciono molto ho comprato degli ebook da ragazze fruttariane perché per avere le ricette di graziose e gustose salsine di frutta o modi di fare l'insalata questo non vuol dire che io sia raw vegan però mi piace prendere spunto da tutti però poi personalizzo a seconda delle mie esigenze e a seconda delle esigenze della mia famiglia tutti i metodi di cui leggo e sono sempre molto critica e sono sempre molto praticante oltre che teorica vi invito a fare questo anche voi e a diffidare e a non pensare che ci sono degli esperti e dei guru che vi seguono io molte volte quando mi iscrivo a questi gruppi facebook vedo delle persone che poi si iscrivono anche loro a questi gruppi e magari mandano un messaggio di ringraziamento con scritto grazie di avermi accolto in questo gruppo spero di fare un bel percorso con voi ecco nei gruppi facebook non si fa alcun percorso se tu pensi di fare un percorso con qualcuno che ti supporta ti o ti sostiene in un gruppo facebook secondo me c'è qualche cosa che non va sei tu che ti sostieni sei tu che ti supporti il tuo medico eventualmente o qualcuno che ti conosce di persona e nei gruppi facebook puoi trovare degli ottimi spunti di lettura e di riflessione degli opinioni su cui poi lavorare su attenzione ma veramente attenzione scrivetemi sotto le vostre domande vi risponderò non da esperta da ubile umilissima praticante come sempre grazie dell'ascolto e ciao